Prima di tutto un grazie per aver richiesto la Demo 10 Free. Io sono Matteo Barberi e sono il tuo consulente online per la soluzione e-learning virtual meeting all inclusive. Cosa potrai fare con i codici di accesso alla piattaforma e-learning? Per dieci giorni tu potrai usare la nostra soluzione, potrai creare il tuo corso, potrai provare a caricare gli utenti per verificare il funzionamento della piattaforma, potrai caricare i tuoi contenuti e vedere esattamente in esecuzione la piattaforma e-learning virtual meeting. Quello è quello che tu potrai fare in questi giorni. Cosa riceverai anche in questi giorni? Te lo anticipo, riceverai delle email che sono i video tutorial realizzati da me e dai miei collaboratori che ti permettono di capire nel dettaglio il funzionamento di virtual meeting e-learning. Premetto anche che tutte queste email troverai anche dei video molto interessanti realizzati da me per quanto riguarda come si crea un pacchetto formativo, come si crea valore aggiunto ai tutti quelli che sono gli utenti che vogliono fare business online. Qualche chicca in più. Come tu vedrai in questa pagina c'è qualcosa in più che ho voluto darti. Ho voluto darti anche l'accesso ad un'offerta speciale dedicata a te, quel bel banner blu che vedi sotto, che è la proposta dedicata a te, che ha una valenza di 10 giorni. Ripeto, i 10 giorni di demo tu potrai accedere alla soluzione all-inclusive, definita all-inclusive, scrivo veramente male ma è chiaro, in questa soluzione che rimarrà aperta solo 10 giorni per te, tu potrai acquistare una soluzione all-inclusive che come ti dirò potrai fare che cosa? Formazione online in e-learning con utenti illimitati, corsi illimitati e gigabyte illimitati. No limits, non pensi più a nulla, tu inizi e fai quello che tu vuoi. Abbiamo inserito, ma non ci siamo fermati solo lì, abbiamo detto, signori facciamo un business completo, non 50%, facciamola al 100%. Cosa vuol dire? Che ha anche un sistema di videoconference e webinar con 200 utenti contemporanei, compreso nella soluzione. Ma abbiamo detto, facciamo ancora di più, abbiamo anche inserito quello che è definito, a mio avviso, la differenza fondamentale rispetto ai competitor. Il pacchetto upgrade vuol dire che se tu formatore, tu entri formativo, fai corsi accreditati in regione o sei collegato con ordini professionali per l'organizzazione dei tuoi corsi, qualunque modifica che effettuerà l'ordine sul tracciamento o sulla tipologia di piattaforma requisiti tecnici, noi ve lo facciamo gratuito. Questi sono tre elementi fondamentali per il tuo business e noi vogliamo seguire te. Allora non perdere l'occasione che trovi qua, entro due giorni, di poter acquistare una soluzione annuale che ha un price di 2.500 euro più IVA, tu lo porti a casa, e ripeto bene, a 1.500 euro e blocchi il price per tre anni, tre anni. Ma non abbiamo finito qui. Se tu acquisti sostanzialmente la soluzione, l'inclusi, hai anche due garanzie fondamentali. Una, garanzia 100% rimborsati. Non ti piace, dopo 30 giorni l'hai utilizzato. Noi cash ti ridiamo i tuoi soldi. Ma abbiamo detto, siamo anche differenti rispetto alla concorrenza. Abbiamo anche detto, vuoi partire tra sei mesi? Non è un problema. Tu paghi la tua soluzione, paghi i tuoi 1.500 euro, ma partirai dicembre e gennaio. I 12 mesi partiranno da lì. Ultima cosa, non hai nessun vincolo contrattuale. Il tuo anno è finito? Non ti interessa? Non hai contratti? Non devi far raccomandata? Non paghi perché tu ritieni che la soluzione non è per te o hai finito il tuo business? La piattaforma non si rinnova in automatico, ma sei tu che devi pagare per rinnovarla. Adesso non perdere tempo. Inizia subito. Entra nella demo, crea il tuo corso, e se hai bisogno troverai i nostri contatti, Skype, email e numero di telefono per contattarci sempre. Arriverà l'email, guarda quei contatti che sono fondamentali. Grazie a te e buon virtual meeting.